Con due sconfitte 0-3 contro Paola e 2-3 contro San Lucido ed una vittoria 3-1 contro la Kermes di Spezzano al Franceschino Filpo, si chiude l'avventura in Coppa Calabra della Bioresolva Voliovolle di Cocci Graziano. In ritardo di preparazione, unitamente alla partenza della Saieva e dai campi di ruolo di Giada Biscardi da posto 3 ad opposta e di Beraldin posto 4 a sostituire la partente Saieva e l'inserimento di due giovani ragazzine come Gazzineo classe 2003 e Festa classe 2001 nel ruolo di centrali insieme alla Esposito non hanno permesso alle Lupette di ottenere di più in questa prima fase della Coppa, fuori dal prossimo turno solo grazie ad una peggiore differenza 7 rispetto alla Fisiotonic di San Lucido, seconde a pari merito con 4 punti. Al di là di questo, come sempre del resto, nell'enturaggio a volio si respira un'aria di ottimismo per quelle che saranno le prossime sfide che le Lupette dovranno affrontare sia nel campionato di Serie C che parte sabato prossimo. E per i campionati Juniors Under 14, Under 16, Under 18, vero marchio di fabbrica della Voliovolle di Castrovillari, sempre guidata da un team di tecnici di primo ordine, Sabrina e Tiziana Feoli e Alberto Graziano. Una nota curiosa, dopo un anno torna a martellare in posto 2, un'altra a Biscardi, Giada. In bocca al lupo dalla nostra redazione per la stagione 2017-2018. Intanto, domenica si parte per un torneo Under 18 con il marchio vololelab.com.